Il confronto che Serena e Nardu ha chiesto di poter avere con Pago nella casa del grande fratello Vip avrebbe dei fini sentimentali, questo almeno è quello che ha appena sostenuto il sardo davanti alle telecamere durante una chiacchierata con Paola di Benedetto. All'influencer che gli ha chiesto in che rapporti è oggi con l'ex fidanzata, il tentante ha risposto che sta pian piano metabolizzando quello che è accaduto a Tentation Island Vip. Ora le manco tanto e vorrebbe anche tornare insieme, dice di essere ancora innamorata di me, ha detto il concorrente del GF Vip, questo pomeriggio davanti alle telecamere. Serena non ha proferito parola su questo argomento, segno che un fondo di verità nelle affermazioni del suo ex c'è e come. La domanda che si stanno ponendo i fan del reality è, la donna intende davvero tornare a fare coppia con l'uomo che ha lasciato malamente a Tentation Island Vip perché si era resa conto di non provare più nulla per lui? Il sospetto che dietro a questo tentativo di riavvicinamento della tronista ci sia una sua voglia di visibilità è sorto in parecchi telespettatori. Anche Pupo nel corso della prima diretta si è detto piuttosto scettico sull'amore che Serena sostiene di provare per pago e sulle cose che oggi vorrebbe dirgli ma che non gli ha detto quando si sono visti lontano dalle telecamere. E voi che ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.